Però comunque ho visto i tuoi video con Anno contro Alias E chi ne pensi? Guarda questo sembra Alias bro un bot Ragazzi ma quello? Vi ricordo che ci attivo il contest Distant Gaming raga è stupendo Perché dovrete scegliere quello che volete vincere Tra PSN card, Xbox Live card V-Bucks o addirittura giochi E provarli a vincere quindi raga In bocca al lupo ragazzi E' mezzanotte e venti non posso alzare troppo il tono della voce Ma siamo qui in compagnia di MarioVille Perché mi ha detto che deve presentarmi un mio grandissimo fan E soprattutto un player molto forte per il mio team Allora Mario forza Spiegami iscritto perché siamo qui Buonasera C'è un ragazzo che è fissato con te Utilizza il codice di creatore Mi parla sempre di te Ok ascolta come ben sapete sto cercando il quarto membro del team Per sfidare Alias E naturalmente vi ho promesso che prenderò uno di voi Che utilizza il mio codice di supporto a un creatore Quindi come ho già detto in video precedenti Mi raccomando spammatemi su Instagram Se vi sentite forti e tutto Naturalmente li farò il provino Mario Se non andrà bene Ciao perché sto cercando uno veramente forte raga Se vi sentite fortissimi Più forti di Zara Più forti di qualsiasi persona al mondo raga Dobbiamo batterlo Alias Quindi Instagram in descrizione Codice creatore Dico trattina abusivo E let's go Mario Vilpro ti devo dire una cosa Non è perché me l'hai presentato te Che sei un mio amico Collega No no vai tranquillo Vai tranquillo Ok vado tranquillo Cioè come se fosse un fan normale Un provino normale Perfetto Esattamente Poi se magari te lo valo Ti dice Mi ma questo è veramente bravo Allora te lo prendi Va bene va bene Tu me lo presenti come è bravo Come è forte Cioè è forte Sì esattamente Va bene In vita Ecco lo dico Bella bro Bella bro Ma perché questo nome Mario ma perché questo nome Vai vai Digglielo Digglielo Eh bro Lunga storia Lunga storia Ma come lunga storia Perché uno crea un profilo Con scritto Steplinabbo Torniamo a noi adesso Allora tu sei qui per fare il provino Facciamo la prova del 9 Verifichiamo Codice supporto creatore Diego trattino abusivo Perfetto bro Ok Allora Innanzitutto come ti chiami Non ti posso chiamare Steplinabbo Mi chiamo Stefano bro Ok Stefano È piacere Bro allora Quante volte ho detto bro Mario tu puoi anche andare via Ora parte il provino ufficiale L'ho già detto anche a lui Se sei forte Ma forte ma veramente una bestia Entri Sennò bro no Senza poi lamentare Come è successo precedenza Che uno si è lamentato Ragazzi se faccio il provino Non è che per forza Ok Ok Perfetto Abbiamo chiarito tutto Mario Te ne puoi anche andare A Arrivederci Sì va bene Ciao Mario Allora bro Decidi te Dove andiamo Anzi decidi te Andiamo a Borgo Che c'è anche gente Allora Dobbiamo distruggere Alias Lo sai anche te Dobbiamo distruggere Che dici Lo distruggi Sei più forte di Alias No bro Di brutto Lo haro bro Lo haro C'è tre metri sotto terra Guarda questo Sembra Alias bro Un bot Ma sei morto Ma sei morto Bro già Sì bro Ma non è un bot Allora Non avevo armi bro Come non avevo gli armi Che hai fatto fino adesso Questo è andato Fai del recupero Iniziamo male Però è la prima partita Ok ci sta Tu dimmi se vedi qualcuno Eh la domanda Ok sì perché Ho queste cuffie Non sento molto Non ho neanche mazzo L'ho squagliato L'ho squagliato Non ho mazzo Non so come gestirla Senza mazzo è difficile Gli ho buttato giù pure La rulotta Ok è andato Dovevo andare a riprendere La taschetta Poi la cosa bella Che hai detto Eh quello sembra un bot Alias E poi ci si è fatto uccidere Ma va bene Ho finito i colpi Bro Ho finito i colpi Ok la prima partita Ci può stare Ma iniziamo molto Ma molto male Non glielo voglio dire Per non demoralizzarlo Però Aia Aia Si è fatto uccidere da due Che non mi sembrano Così tanto forti E vi ho detto Che sto cercando qualcuno Di veramente potente E estremo Comunque bro C'è tutto da ludare ancora No c'è gente qua Ok buono buono Ma questo è un bot sul serio No non è un bot Non lo so Non l'ho capito Comunque bro qua c'è il pompa E un po' di roba Se ti serve Raga mi devo ricordare Che ho il PTT Perché certe volte parlo E lui non mi sente Anche se voglio parlare con lui Sta cosa è un po' strana Infatti premere T Perfetto Perfetto Dai che ho già tre kill io Però comunque ho visto I tuoi video con Contro Alias E Che ne pensi È un bot Alias Ah Ma se vede questo video Oh L'hai sentito Un cecchino No bro Hanno sparato all'airdrop Non sono bot Vogliono buttare giù l'airdrop Stai attento eh Ok L'ho squagliato questo Dammi una mano Tuppi là che sono due team Ma com'è 40 Iniziamo male Iniziamo male Iniziamo malissimo Continuiamo male raga Continuiamo malissimo Ok è andato Devo recuperare la scheda No Sono morto Sono morto Mi spam Mi spam Sono morto Sono morto Sono morto Ma non l'ha trappato Oddio raga Ho rischiato contro questo Seconda partita ragazzi Nel frattempo ho cambiato outfit Mi sono messo questo cappello Prova di concentrarmi E la prima partita sarà disastrosa Quindi spero vada un po' meglio Fratello Stefano ci sei? Dove andiamo? Sono qua A brughiere qua Sì 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 bro Ci sei? Perfetto Oh bro scusami per la partita di prima Ma mi sto riscaldando So che sembrava un po' Alias Ma adesso spacchiamo tutto bro Non è che sembrava un po' Alias Peggio di Alias Vai 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 Ci sto ci sto Facciamo come prima Hai una rianimazione Ok? Se dovessi morire prima di me Poi Quitto di nuovo Non me lo freghi? Ma dov'è il tesoro? C'è un lama Eh il tesoro è qua Ok forse armi migliori Di prima Apro il lama Così prendo un po' di materiali Ragazzi devo riprendere il mal lama Per i materiali Devo cambiare un attimo armi Prendiamoci il medikit Io ne ho terrato uno E ne ho ucciso uno Perfetto Quello era un bot sicuramente Ora ho tutto No ha già Mi hanno preso da due lati bro Uno è andato Quanta gente c'è? Questo è andato Upgrade Ha squagliato Questa è andato E fortuna è lama Ragazzi sto facendo il problema a me stesso Qua così Per recuperare la scheda Oh c'è la pompa migliore del mio Non ci credo Bro ma adesso perché M'hanno preso da due lati diversi Poi ho frame laggato bro Sì un'altra scusa raga Ma perché tutti inventano scuse? Ragazzi ma quello Chi mi ha sparato? Io non vedo Ma chi mi spara? È assurdo Da dove mi ha sparato l'altro? Bro che non lo vedo Con le luci Da lì davanti Verso la torre grande Grande bro Vabbè Il giochino oro Bentornato al mondo Per la seconda volta Fratello Per adesso sembra che io Stia facendo il più in a me stesso Non ha senso Sto affarmando un po' Così almeno alla prossima Non mi uccide nessuno bro Ho i miei dubbi Perfetto fratello Dai dai Una terra bro Bravo Una terra d'uno Non ci credo Push Pushiamo bro Pushiamo Non ci credo raga È impossibile Sto sognando Ho fatto una cosa bella Sto sognando No no L'ho mai questa cosa Del post battaglia Finito la minuzione No Devo ricaricare Shit Devo ricaricare Ok è andato Ragazzi è andato È un bot raga È un bot raga Ma che cacchio era questo Un passo Da dove raga Non ci sto capendo niente Ne ho preso uno Devo quittare Ragazzi Ragazzi Cosa Bro si è buggato Hai visto Ma io sono morto Buggato nella mia stessa struttura Non potevo fare niente Sono morto di safe Non ha senso questo gioco Comunque Mi dispiace Come puoi immaginare Hai fatto due kill In due partite Il provino è andato fratello Eh lo so bro Però non ero caldo Va bene Fa niente Fa niente Ragazzi Fa niente Fa niente Tranquillo Nessun problema Io ho registrato Perché Mario mi ha detto Di registrare Visto che mi doveva presentare Uno forte forte Quindi magari credo anche Che sei forte Però magari non è stato Il momento giusto E continua la ricerca Del player forte Per il mio team Ragazzi Sto ancora cercando il quarto Sto facendo i provini Iscrivetemi in privato Naturalmente è possibile Rispondere a tutti Che su Instagram Siamo 70.000 Però piano piano Lo sto facendo Ogni giorno Almeno 3-4 persone Sto prendendo Quindi raga Mi raccomando Se siete forti forti Dobbiamo battere Alias Però è stato un piacere Ancora non ho capito Perché ti chiami così Ma fa niente Bella fratello Bella fratello Ciao 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 Ciao